Allora, prima di passare al cambio di velocità nelle orbite facciamo una cosa molto semplice vediamo come cambiare la velocità di questo sole quindi come avrete intuito dalla keyframe noi abbiamo un keyframe corrispondente alla per esempio su questo abbiamo una linea temporale che in realtà è qua sotto ecco perché cosa bisogna alzarla? perfetta quindi vedete che qui abbiamo un keyframe qua questo keyframe aveva 359 quindi se noi vogliamo che il sole faccia due giri anziché uno qui anziché 360 dobbiamo mettere il doppio 360 e cioè 720 in particolare 719 la correzione è effetto soltanto quando facciamo la I quindi facciamo pure un I oppure anche probabilmente basta anche premere qua facciamo I rotazione ok quindi l'abbiamo preso e quindi a questo punto sappiamo che il sole ruota più velocemente infatti se noi lo vediamo vedete che adesso va più velocemente di prima perché abbiamo cambiato, abbiamo raddoppiato questa rotazione perfetto, quindi sapendo che le keyframe quindi si possono manovrare attraverso l'inizio e la fine prima andare a vedere la velocità lungo le orbite di un pianeta allora per semplicità ok ho preso anche il modello della terra sempre dallo stesso sito in cui ho preso il sole questo qui è il sole che adesso ho nascosto solo perché come abbiamo visto nell'altra tra l'altro qui conviene magari cambiare il nome questo è il sole e questo qua diventa la terra così abbiamo un'indicazione chiara e ricordiamo che per poter fare l'animazione lungo i percorsi bisogna mettere i modelli all'origine quindi 0, 0, 0 qua posizione X, Y, Z, 0 magari facciamo la terra un briciolo più piccola quindi quando facciamo vedere il sole ovviamente la terra sta in mezzo al sole ma non preoccupatevi ora noi abbiamo già un'animazione per cui gira il sole possiamo costruire anche quella sulla terra ma probabilmente ci interessa di meno quindi la salto voi eventualmente la fate e quindi creiamo un'orbita con la tecnica che abbiamo visto prima quindi shift A curva cerchio tab anzi lo scaliamo subito al cerchio quindi facciamo un bel cerchio così e poi mettiamo una sorta di allisse lungo la X così ok quindi questa qui dovrebbe essere come viaggia la terra attorno a questa ipotetica terra attorno al sole quindi nel momento in cui andiamo in modalità oggetto torniamo sulla terra e gli aggiungiamo questo constraint questo vincolo segui percorso e gli mettiamo l'orbita che adesso cerchi obeziema noi la chiamiamo orbita della terra vedete che abbiamo che adesso qui appunto non gira perché nell'altro video vi ricordate che per farla girare occorre aggiungere delle cose quindi andiamo quindi avremmo dovuto segui curva e animate path allora a questo punto la terra effettivamente gira attorno al sole secondo un'orbita ellittica e ok tra l'altro vediamo anche che gira anche in maniera abbastanza credibile quindi vuol dire che il graph curve che abbiamo fatto vedere prima probabilmente qui lo fa meglio perché proprio lo fa quando segue una curva in questo modo segue senza fare quella correzione però noi adesso vedremo che c'è un modo per rendere questa rotazione rapida a piacere invece così diventa un pochino complicato quindi per farla rapida a piacere invece ok allora entriamo nel merito della posizione fissa quindi cosa vuol dire posizione fissa vuol dire che noi invece di avere l'animazione che segue diciamo l'automatismo della curva andiamo ad animare quella posizione che ha il il nostro la nostra terra per capire dove inizia dove finisce quindi cosa facciamo allora innanzitutto mettiamo posizione fissa e nella posizione fissa gli diciamo che c'è un fattore di scostamento iniziale esempio che parte da da 0 in questo caso e gli mettiamo un keyframe solo sul fattore di scostamento quindi facciamo tasto destro inserisce fotogramma chiave e compare vedete che sulla su questo diagramma ci compare il fattore di scostamento che inizialmente è a 0 ora andiamo in fondo quindi in fondo vuol dire il 100 l'ultimo l'ultimo fotogramma e gli mettiamo un fattore di scostamento 1 quindi vuol dire che qui anziché 0 gli mettiamo 1 e poi vedete la terra non si mostra perché l'1 corrisponde a lei quando ha finito il giro però se noi adesso facessimo un inserisci fotogramma chiave vedete che abbiamo inserito effettivamente una il fotogramma e quindi abbiamo il nostro movimento segnato allora qui non lo vediamo perché tra 0 e 1 e qui c'è un limite 100 200 quindi noi per vederlo facciamo mi sembra control e poi no il contrario control e poi ecco il tasto centrale del mouse e vediamo che abbiamo quell'effetto famoso infatti se noi adesso vedessimo la rotazione che c'è quindi facciamo un play vedete che la terra effettivamente gira ma vedete che rallenta e fa quell'effetto famoso che abbiamo visto prima quindi siamo riusciti un po' a controllare la sua cosa però abbiamo quel problema lì che abbiamo risolto già andando nel canale e inserendo un extrapolation mode lineare e a questo punto quando facciamo il giro vedete che la terra gira attorno alla sua orbita in maniera perfettamente uniforme in realtà probabilmente dovreste se voleste essere precisi dal punto di vista fisico astronomico dovreste farlo andare più veloce quando è qua cioè quando è vicino al sole ma per il momento lasciamo perdere questa ottimizzazione ora vi ho detto così abbiamo fatto più o meno la stessa cosa della curva nel seguicurva ma se noi vogliamo fare in modo tale che questo pianeta faccia il giro in doppio quindi praticamente al 100 ecco per raddoppiare la velocità in realtà bisogna seguire un po' un workflow un po' diverso perché il problema di questo offset è che è valido soltanto nell'intervallo 0-1 e molto ingenuamente io ho provato a raddoppiare la velocità semplicemente ruotando questa retta in modo tale che avesse una pendenza maggiore effettivamente andava più veloce nell'intervallo in cui era fra 0 e 1 ma nel momento in cui andava oltre 1 si fermava e quindi cioè tutta questa parte o questa parte qua una volta che era raddoppiata bloccava la terra quindi il workflow per fare questa cosa è più o meno simile a quello che abbiamo visto nel video lungo precedente ma facciamo un po' di editing dentro l'NLA quindi innanzitutto cosa facciamo andiamo nel Dope Sheet che è questo e nel Dope Sheet ci facciamo il famoso dunque dentro l'Action quindi editorazioni in cui abbiamo questa azione sulla terra facciamo uno stash facendo così possiamo andare nell'NLA e nell'NLA abbiamo questa terra action ok ora a questo punto quello che succede è che bisogna editare questa azione in modo tale che si compatti nei primi 50 frame quindi per editarlo si fa un po' come si farebbe sull'editing di un modello nel senso che si fa tab e si fa una specie di modalità modifica questa modifica praticamente permette a questo punto di fare S scale ok vediamo che abbiamo la terra action siamo in modifica la modifica ci permette di vedere qua sotto quando vediamo appunto nella timeline i frame i frame che ci abbiamo ci conviene fare un baking come abbiamo visto quindi facciamo oggetto animazione bake action e gli mettiamo come abbiamo visto a suo tempo quindi otteniamo tutti questi frame per raddoppiare dobbiamo fare in modo tale che tutto questo arrivi non da 0 a 100 ma da 0 a 50 quindi facciamo una scalatura che abbiamo detto prima S ok essendo puntati non su 100 magari ma su 0 quindi se qui facciamo sul primo fotogramma se qui facciamo S di scalatura facciamo in modo tale di arrivare fino a 50 e così praticamente fa un giro intero ma ne vogliamo fare un altro quindi facciamo un shift D e poi spostiamo il cursore in modo tale da arrivare a 100 e a questo punto abbiamo la nostra animazione praticamente come vedete che fa questo mestiere ora lo stoppiamo abbiamo finito la modifica quindi tab torniamo in object mode qui abbiamo detto che per avere le due animazioni contemporaneamente su mozilla hubs dobbiamo chiamarla con lo stesso nome movimento speranzosamente quindi se noi a questo punto facessimo un export glb di questa cosa quindi facciamo file export gltf e qui facciamo sole terra glb dovrebbe dovrebbe esserci tutto posto adesso andiamo a vedere in mozilla hubs se è tutto andato buon fine ecco in effetti non è quello che ci aspettavamo anche vedendolo con il visualizzatore e perché questo? perché dobbiamo rifare quello che abbiamo visto nel primissimo video lungo quindi dobbiamo costruire praticamente due track fatte queste qui con la stellina quindi anche per il sole e dargli lo stesso nome vedete qui ho dato movimento e movimento qua sperando che li emergiasse assieme ma in realtà questo movimento come vedete è un dopsheet ma questo movimento qua della terra invece è appunto una traccia NLA e dobbiamo fare in modo tale che le tracce siano identiche altrimenti quello che succede è che lui effettivamente vede le due animazioni ma le vede separate quindi vede un'animazione 1 che è il sole e un'animazione 2 che è la terra ma non le combina assieme in un modo organico come interessa a noi allora come facciamo a organizzare queste cose insieme? allora innanzitutto bisogna andare sul sole questo vedete che il sole è questo bisogna fare facciamo per sicurezza tutto il giro quindi facciamo il baking facciamo oggetto animazione bake action con tutte le impostazioni e quindi abbiamo come vedete il sole tutto beccato che è questo facciamo ancora lo stash del sole quindi vedete che a questo punto abbiamo il movimento del sole però è questa la cosa che deve chiamarsi movimento in modo tale che le due che le due strisce con la stellina abbiano loro lo stesso nome a questo punto facendo file export e poi andiamo in gel e qui facciamo sole terra facciamo sole terra si vediamo un po' se funziona sole terra si export andiamo nei planets sole terra si questa se facciamo la visualizzazione di questo oggetto vedete che tutte le animazioni sono a posto quindi texture animazioni eccetera quindi a questo punto semplicemente andando in mozilla hubs quindi in aliasl.org hubs qui e andiamo nella nostra stanzina solita quando arriva entering solito discorso entering nella cosa quindi qui andiamo in un posto g ok andiamo in più e andiamo nel documenti planets sole terra si questa qua ed ecco che vedete che abbiamo la nostra animazione di nuovo il sole con la terra che ci gira attorno e adesso vabbè in realtà si nota poco ma se avessimo più di animazioni di questo tipo avremmo i pianeti che si muovono ognuno con velocità diverse che è quello l'obiettivo che vogliamo ottenere quindi dei pianeti che si muovono su orbite arbitrarie con velocità arbitrarie quindi che possiamo scegliere noi tra l'altro in questo caso vedete che il sole gira in un senso e la terra gira nell'altro poi volendo si poteva anche mettere e fare un backing della terra che ruotava in altro modo su di sé e quindi direi che a tutti gli effetti abbiamo il problema del controllo insomma dell'animazione fatta con glb risolto o almeno in gran parte questo è tutto ci sentiamo grazie a tutti